Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi presentiamo una serie di eventi culturali legati alla storia, alla storia recente ma anche alla storia e alle tradizioni della città di Pescara con Licio Di Biase che è Presidente dell'Associazione Pescara Tutela. Buonasera di Biase, bentornato nei nostri studi perché siamo curiosi di conoscere più da vicino lo spirito e anche i contenuti di questi eventi che animeranno ogni giovedì pomeriggio a partire dalle 17.30 una volta al mese l'Auditorium Cerulli in Via Verrotti, lo ricordiamo, 42 che diventa teatro di una serie intanto di audiovisivi perché appunto questo è il carattere particolare che non limiterà. l'incontro a un semplice convegno ma di approfondimenti con protagonisti del mondo delle arti, della cultura, dello spettacolo, degli studi e anche personaggi della città di Pescara. Il tutto di Biase inizia proprio dal titolo che mi ha incuriosito molto perché è un titolo montano trattandosi di una città di mare ma la montagna c'entra poco, è un'esclamazione che tutti utilizziamo quando ci meravigliamo di una cosa che non ci aspettavamo di aver trovato. E infatti mi sono proprio meravigliato a un certo punto mettendo a posto tre anni fa. E che cosa ha detto Licio di Biase? O Plamello, quante cose pescare. Cioè nel senso ho trovato... E il titolo del ciclo di eventi. Una miriade di video, i vecchi DVD per capirci, realizzati da tantissimi operatori di Pescara, Silvano Consoli, Stefano Falco, Antonio Di Loreto, che video però visti magari una sola volta e questa cosa mi ha molto incuriosito. Già solo io mi ho trovato circa una trentina. Poi insieme a Gianfranco Di Donato, devo dire, il nostro grande pescarese che ha lavorato molto nel settore fotografico e cinematografico locale, proprio con Gianfranco Di Donato abbiamo trovato tantissimi altri video proprio realizzati da lui oppure in sua dotazione. E a quel punto veramente abbiamo pensato di rimettere in cantiere, perché l'abbiamo fatto già un'edizione due o tre anni fa, ma fu una cosa ovviamente molto ridotta. Adesso invece abbiamo video veramente che non sono stati mai visti, sono proprio tipo quello che abbiamo trasmesso lo scorso giovedì con un'intervista a Pasquale Antonis. Qualcuno non conosce Pasquale Antonis, ma è stato un grandissimo fotografo pescarese trasferito a Roma, amico di Flaiano ed è stato anche fotografo di Visconti, il regista, ha fotografato tantissime donne. Quindi sono dei personaggi importanti che però la città non conosce. Quindi noi con questi otto appuntamenti approfondiremo ulteriormente la grande storia della nostra città. Ecco, però qui siamo già sulla provocazione che io mi aspettavo di dover fare, quindi mi ha anticipato il liceo di Bia. Ma Pescara, e questa domanda gliela avranno fatta qualche migliaio di volte, però è bene sempre farla, perché poi quando si parla di queste cose si accendono anche nei nostri telespettatori dei retropensieri, anche degli stimoli di grande provocazione. Ma Pescara non ce l'ha una sua storia? Pescara c'è una grandissima storia, è una storia estremamente importante. Io dico che per almeno tre secoli, dalla metà del 1500 all'Unità d'Italia, Pescara è stata una città protagonista del Regno di Napoli. Perché? Perché aveva la piazza forte e quella piazza forte era l'elemento difensivo del Regno di Napoli al nord, al ridosso del Tronto. Così come la piazza forte di Gaeta lo era per la costa tirrenica. Quindi era una città estremamente importante per quei tre secoli. Poi se vogliamo guardare all'insieme della Brusola possiamo dire che Chieti e Teate è di origine romana ed è più importante sotto quell'aspetto. Nessuno lo mette in dubbio, così come l'Aquila, così come il Teramo. Ma Pescara era il luogo di incontro, nel senso che qui arrivava la Tibuttina Claudio Valeria e c'era la strada costiera. Quindi era un luogo di incontro per cui c'è stata sempre una grande contaminazione. E la piazza forte però poi è stato l'elemento di svolta nella seconda metà del 1500. Quindi quando diciamo che Pescara non ha storie, io dico sempre che Pescara non ha più gli elementi visivi della propria storia perché abbiamo buttato giù chiaramente la piazza forte. Fini 800 i pescaresi vollero totalmente togliere ogni riferimento alla piazza forte. fu un grande peccato perché era una struttura militare difensiva veramente mastodonica che andava da Via Italica a Via Godelforte, dalla linea ferroviaria a Viale Marconi. Insomma, quindi una struttura grandissima con mura alte fino a 8 metri. E poi abbiamo buttato giù tante altre cose, anche recentemente la centrale del Latte, la stazione di Porta Nuova, ultimamente la filanda Giammaria. Quindi è una città che comunque quei pochi elementi che ha li elimina, anche se poi siamo riusciti a recuperare il Ciccaternino, il Teatro Mighetta, a conservare l'Aurum. Però la storia di Pescara, inquadrata almeno da questa rassegna, è una storia un po' più contemporanea, un po' più vicina ad oggi, anche perché appunto ci sono i video che ovviamente all'epoca non potevano essere fatti, ma è soprattutto una storia fatta a dei personaggi, perché Pescara si identifica, nonostante sia una grande città, con alcuni personaggi simbolo, che è quasi invece una caratteristica delle città di provincia. Quella Pescara che nasce soprattutto nel dopoguerra, come città aperta, insomma, oltre che a essere conosciuta, vissuta dopo l'unificazione, come una realtà unitaria, anche come una realtà di grande effervescenza commerciale, di grande effervescenza nel ricevere persone da ogni parte d'Abruzzo, diventa una grande, grande città, ha comunque i suoi personaggi un po' di provincia in qualche modo, alcuni illustri, abbiamo fatto riferimento a Pasquale De Antonis, altri meno conosciuti e comunque sono diventati delle caratteristiche. Quali sono questi principali? Perché sono curioso anch'io di sapere chi saranno i protagonisti, oltre ai luoghi anche gli uomini e le donne. Intanto, chiaramente, inevitabilmente, abbiamo toccato Pasquale De Antonis e abbiamo anche proiettato un'intervista a Vicendino Michetti, quindi Vicendino Michetti, un personaggio di Pescara, artista, architetto significativo. Nel futuro parleremo anche dei grandi personaggi, non abbiamo toccato D'Annunzio. No, D'Annunzio e Flaiano sono abbastanza... No, no, Flaiano ci sta, Flaiano ci sta perché interverrà Federico Moccia... E lì si vince facile, però ci sono anche altri personaggi. Però anche su Flaiano abbiamo due video che sono inediti, inediti, cioè un video straordinario, fatto proprio da Gianfranco Di Donato, che dura otto minuti, un video molto ironico. Quindi c'è un taglio, una lettura anche diversa di questi personaggi. Poi c'è un personaggio non pescarese, possiamo dire, Francesco Paolo Tosti, che è di Ortona, però l'abbiamo voluto inserire perché comunque ha condizionato la musica di fino a 800-900 del nostro territorio ed è molto significativo. E diciamo che abbiamo voluto organizzare questa cosa su Francesco Paolo Tosti piuttosto che su D'Annunzio. Ecco, io questo lo annuncerei perché l'evento più imminente sarà il 12 dicembre e ci saranno due video, leggo, i colori dell'Adriatico di Stefano Falco e Silvano Console e Francesco Paolo Tosti, il canto di una vita, prodotto dall'Istituto Nazionale Tostiano, che sarà vostro partner in questo evento. Devo dire che quasi ogni incontro, sì, in ogni incontro ci sta un video su Pescara, come in questo caso parliamo bene di quello dell'Adriatico, di addirittura di più, si vede anche Città Sant'Angelo, altri eccetera, quindi c'è sempre un video sul territorio e poi ci fermiamo sul personaggio, come in questo caso con Tosti ci sarà un concerto e chiaramente ci sarà, verrà esibito la bucchella, mi pare ovvio, è il minimo che potessimo fare. A proposito che c'entrava poco con i peccari che si toglie. Certo, appunto, era questa la provocazione. Allora, poi leggo Mimmo Sarchiapone, poi aspetta un attimo, Tommaso Cascella, vabbè, Uevitello, avremo anche come proiezione Federico Moccia, che ormai è un abruzzese d'adozione, poi avremo Federico Caffè, come dimenticare Federico Caffè, Restituto Ciglia, e poi si chiuderà con Borgo Marino, che è il cuore marinaio della città. Allora, sono sette incontri, quindi abbiamo, la scorsa settimana abbiamo parlato Pasquale Antoni, c'è quindi adesso Paolo Tosti, poi ci saranno i Cascella, viene Tommaso Cascella, ma parleremo dei Cascella, in quella circostanza Milo Vallone, che ha recentemente prodotto quel video con teatro, che lui adesso fa questo spettacolo, dal titolo Marco Arcunde, che è dedicato a Tommaso Cascella, il nonno di Tommaso Cascella che verrà, su un fatto accaduto anche lì, tra Tommaso Cascella e D'Annunzio, quindi D'Annunzio, come il prezzemolo, c'entra sempre nelle nostre cose. Poi Restituto Ciglia e Mimmo Sacchiapone, sono due video realizzati da me e da Mila Cantagallo, sono due interviste fatte a questi due grandi personaggi, adesso Restituto Ciglia è scomparso qualche anno fa e l'abbiamo intervistato, e così Mimmo Sacchiapone invece ha 93 anni, attivissimo, grande grafico del nostro territorio, perché sono due personaggi che hanno vissuto Pescara e quindi questi video servono ad entrare nella storia del Novecento, come dire, nella quotidianità della storia del Novecento, perché adesso scriveremo, scriverò, Pescara nel Novecento, uscirà fra un anno e mezzo circa, ed è la storia, documenti, altri libri, eccetera, però la testimonianza arricchisce la storia, si entra nella quotidianità della storia, e quindi con Restituto Ciglia e Mimmo Sacchiapone c'è proprio questo percorso, cioè entrare nella quotidianità della storia. Chiuderemo a giugno con due video, uno sulle Paranze e uno su Borgomarino, perché siamo ormai quasi all'estate, e quindi chiuderemo con quei due video. Scene di storia quotidiana di una città che ne rappresenta l'anima, perché Borgomarino è un po' l'anima della Pescara marinara, e poi ci sono, l'ho lasciato per ultimo, c'è un personaggio, una famiglia, che dà proprio l'idea di questa città, che ha la grande inventiva e che guarda sempre al futuro, la famiglia Pomiglio. Certo, la famiglia Pomiglio, che nel 19 acquistano il Cursal, realizzano la distilleria, in pochi anni l'Aurum diventa uno dei prodotti più importanti al mondo, e voglio sottolineare un aspetto che è molto importante per questa nostra città. Quando c'è un'infrastruttura, si determina un luogo. Capiamoci, il Cursal, 1910, lì non c'era neppure un'abitazione intorno. Dopodiché passa la Prima Guerra Mondiale, nel 19 i Pomiglio acquistano il Cursal, una struttura che viene trasformata in distilleria, e nel volgere di 4-5 anni nasce la Pineta, come la vediamo oggi. Comincia a nascere la Pineta come la vediamo oggi. Quindi quel borgo, così l'ho definito uno degli otto luoghi identitari, nasce perché c'è l'infrastruttura. Così come nasce Pescara Centro quando arriva la stazione. Così come nasce la zona dei Colli quando nella seconda metà del 1500 si mette in moto un fenomeno di immigrazione da parte di contadini di Terramani nella zona dei Colli. Quindi Pescara, io ho definito due definizioni, ho dato di Pescara. Pescara che è una città con otto luoghi identitari, otto luoghi, e ogni luogo ha avuto una sua genesi, uno sviluppo autonomo l'uno all'altro. E poi senza rughe, che non è una mia frase, ma è preso da Giorgio Manganelli che quando venne a Pescara alla fine degli anni Ottanta, venne in Abruzzo a visitare alcune città brussese e si fermò a Pescara, disse che Pescara non ha rughe. Perché? Perché quando diciamo Pescara non ha storia, significa che Pescara non ha la storia visiva, quindi non ha le rughe, non ha le testimonianze del tempo. Allora, quello che ho fatto in questi anni è quello di scavare per riportare alla luce queste rughe che sono state rinchiuse dalla nostra disattenzione e poi anche della Seconda Guerra Mondiale, perché Pescara è stata ferocemente bombardata, il 70% di abitazioni, di beni culturali, eccetera, buttati giù e lesionati. Quindi, i pomiglio sono i creatori della pineta, ma poi abbiamo tanti altri pomiglio, l'ultimo Franco Pomiglio che è in scaletta, speriamo che potrà avvenire perché lui è sempre in giro per il mondo, altrimenti verrà qualche altro pomiglio. Bene, io penso che questa chiacchierata con il liceo di Biase abbia avuto anche l'effetto di, oltre che di riaprire qualche pagina nei ricordi dei pescaresi, ma anche dei non pescaresi, abbia sollecitato anche la curiosità di venirvi a trovare tutti i giovedì, una volta al mese, calendario che è, insomma, disponibile ovunque per l'associazione Pescara Tutela che è appunto il punto di riferimento, ma ricorda, un giovedì al mese un'oretta, un'oretta e mezza per stare insieme con questo racconto diciamo un'oretta e mezza a due ore due ore ma io lo dico per incentivare per dire che poi comunque si va a cena però alle cinque e mezza del pomeriggio parlare di queste cose è sempre interessante perché nascono tanti spunti e magari anche qualche ricordo di per chi non è giovane o qualche stimolo a incuriosirsi del proprio recente passato per chi giovane è. Grazie, Liceo di Biasi, arrivederci. Buona serata a tutti.